Altro che moderato, per Francavilla ci vuole un sindaco che sia un politico, che conosca i meccanismi dell'apparato burocratico, che sappia tener testa a chiunque. Maurizio Bruno, candidato impectore del Partito Democratico, risponde così a Domenico Bianco, coordinatore cittadino di UDC e Noi Centro, che qualche ora prima aveva tracciato il profilo ideale del candidato di una grande coalizione di centro-sinistra. Un ritratto di tutto rispetto, ma evidentemente molto poco Bruno, che tutela la sua corsa da fascia tricolore e difende l'opzione primaria, rispinta invece dai centristi. Io penso che bisogna invece accelerare i tempi per trovare i criteri della candidatura, del candidato sindaco. Noi proponiamo quello delle primarie, gli altri partiti della Commissione dovranno, non so come troveranno la soluzione, nel senso quali sono altri metodi. Noi abbiamo un metodo, ci confrontiamo, eccetera. Poi sul candidato moderato, insomma, anche se ho una tradizione, provengo dalle file della sinistra di Francavilla, penso di essere stato un renziano della prima ora. Sono cinque anni, ho partecipato anche alla prima Leopoldo, di conseguenza penso di aver dimostrato non tanto di essere moderato, anche perché Francavilla non ha bisogno di un sindaco moderato, Francavilla ha bisogno di un sindaco che amministra la città dopo tanti anni di malgoverno del centro-destra. Un assist a Bruno è arrivato anche dall'onorevole Elisa Mariano, che fondamentalmente lancia un appello a tutte le forze di una coalizione in stile laboratorio. La candidatura di Bruno, scrive in una nota alla deputata, è stata democraticamente scelta all'interno del partito per essere poi sottoposta al tavolo della coalizione di centro-sinistra, che, oltre che dalla selezione delle candidature, dovrà occuparsi anche e soprattutto di programma. Inoltre, il PD e lo stesso Bruno sono disponibili, precisa la Mariano, qualora vi fossero altre legittime candidature, a rimettere la scelta finale ai cittadini attivando il percorso democratico e partecipativo delle primarie. Il centro-sinistra, spiega la deputata, non può perdere questa occasione, anzi ha il dovere di presentarsi in maniera unitaria a questo importante appuntamento. Dobbiamo essere consapevoli che moltissimi cittadini guardano a noi come l'unico blocco di forze, capace davvero di avviare in tempi brevi un progetto di cambiamento e rilancio della città di Francavilla e sarebbe davvero difficile, chiosa l'onorevole, per i nostri elettori, accettare una divisione nel nostro campo.